Non vedevo l'ora di ripartire, di ricominciare a giocare, di trovare una squadra che puntasse su di me e il Siena è uno di quelli che mi ha cercato consistenza e con questo devo ringraziare il direttore e il mister. Io mi sento bene, ho avuto un piccolo problemino due giorni, quattro giorni fa, però da oggi ho già ripreso l'allenamento, quindi sono a disposizione. È uno sporto sanissimo, è uno sport che mi ha subito fatto sentire parte e questo devo ringraziare anche a loro perché con i nuovi che arrivano non è mai facile che si intriano così in poco tempo.